Benvenuti al primo video dedicato alle funzioni domestiche. Cosa si intende per funzioni domestiche? Quando parliamo di funzioni domestiche noi stiamo semplicemente parlando del tipo di azione che viene compiuta regolarmente all'interno di una stanza di casa. Infatti dobbiamo renderci conto che negli anni e soprattutto anche un po' con la moda degli open space che andavano a unire varie funzioni all'interno dello stesso ambiente abbiamo un po' perso d'abitudine di utilizzare le stanze di casa magari ad esclusione delle camere da letto per un'unica funzione. Il periodo poi del lockdown ci ha insegnato anche a lavorare a casa quindi molto spesso noi ci troviamo a confondere la nostra vita privata con la nostra vita pubblica proprio portandoci del lavoro a domicilio senza aver creato un ambiente ideale e adeguato per le funzioni lavorative. Per questa ragione risulta estremamente importante valutare sempre quali sono le funzioni reali di ogni ambiente di casa. Perché ragione? Perché un po' come il nostro cervello anche la casa se ha una confusione se ha quindi un sistema non particolarmente regolare e scandito di attività che vengono svolte tende a perdere in un certo senso di qualità. Parliamo di qualità della casa noi intendiamo la capacità di certi ambienti di creare in noi benessere un senso di protezione accoglienza o anche la funzionalità quindi appunto le funzioni domestiche verso determinate azioni da compiere. Secondo il fang shui ogni stanza infatti può essere valutata partendo dall'idea che come le direzioni geografiche come i colori come le forme hanno una loro propria corrispondenza con il wujing le cinque fasi dell'energia. Allo stesso modo le funzioni e le azioni e il valore stesso di una stanza lo possiamo decodificare proprio attraverso queste funzioni. Partiamo quindi a parlare della camera da letto. Perché voglio parlare per primo proprio della camera da letto? Perché le camere da letto sono di fatto il cuore della nostra abitazione assieme al vecchio focolare quindi alla cucina. Se pensiamo infatti alla storia della nostra specie le prime abitazioni erano di fatto un giaciglio e un luogo in cui cucinare al sicuro protetti dagli elementi esterni e protetti anche dopo quando abbiamo iniziato ad avere dimone stabili protetti anche da possibili invasori quindi persone che entrano in casa senza la nostra autorizzazione o entrano nel nostro spazio vitale senza la nostra autorizzazione. La camera da letto quindi è la stanza più importante da valutare quando si vuole fare un intervento di riarmonizzazione comunque di sistemazione della propria abitazione. Perché ragione? Perché noi casa dovremmo cercare di passare il più possibile il nostro tempo di riposo, il nostro tempo di relax, il tempo in cui ci si stacca tutto il mondo lavorativo da quel turbinio di relazioni umane, economiche e in generale di esperienze che viviamo nella nostra vita più young quindi la vita attiva ed esterna. La camera da letto quindi deve essere sempre valutata nel modo più regolare possibile. Perché ragione? Perché se noi creiamo una stanza che non è adeguata al sonno rischiamo di fatto di non avere per noi un luogo sicuro in cui riposarci. Quali sono quindi le cose da valutare quando creiamo la nostra camera da letto? Innanzitutto la cosa principale che viene comunque contemplata dal fang shui ma è una problematica moderna è quella dell'inquinamento elettromagnetico. Quindi mi raccomando mai tenere televisori, computer, comunque strumenti che lavorino durante la giornata o anche durante i momenti del riposo. Ad esempio mai posizionare un router o un modem all'interno della propria camera da letto. Quelli dovrebbero essere sempre delegati alle zone young o di lavoro di casa. Quindi le zone che necessitano realmente di una funzione multimediale come potrebbero essere i computer lavorativi, le nostre televisioni o altro. A prescindere da questo è importantissimo prendere in considerazione tre cose quando valutiamo qualsiasi stanza ma in particolar modo la camera da letto. La prima cosa da valutare è la posizione relativa rispetto alla planimetria. Cosa significa? La camera da letto a differenza di tutte le altre stanze ha una necessità particolare che è quella di risultare il nostro nido, il nostro luogo sicuro. Per questa ragione dovrebbe essere sempre la stanza di casa più in, quindi più lontana dall'ingresso e che comunque accolga in modo protetto chi va a riposarsi. Osserviamo quindi la nostra planimetria. Se nella nostra planimetria notiamo che per raggiungere la camera da letto dobbiamo fare almeno due svolte, meglio ancora se tre, quindi andare in una direzione poi cambiare poi ricambiare direzione, già vuol dire che la nostra camera da letto è una camera da letto adeguata. Ovviamente sarà ancora più adeguata se parliamo di camere da letto posizionate al piano, quindi oltre alle svolte avere anche una salita da fare. Attenzione però, mai una camera da letto di fronte alle scale e preferibilmente mai le scale di fronte alla porta d'ingresso. Perché ragione? Perché in questo modo noi ci sentiremmo troppo esposti rispetto a dei potenziali pericoli che giungono dall'esterno. Quindi le camere al piano sono sempre più in, sono sempre più protettive proprio tranne nel caso in cui si trovino di faccia alla scala. Quel tipo di posizionamento, a meno che il pianerottolo non sia abbastanza ampio, ha di fatto necessità di interventi un po' più precisi proprio per diminuire potenziali problematiche che potrebbero nascere nel tempo, quindi sensazioni di non adeguata protezione durante il periodo del sonno. La seconda cosa da valutare dopo la planimetria è la disposizione spaziale geografica della stanza. Cosa si intende? Attenzione, non applichiamo mai il bagua secondo le indicazioni della scuola dei berretti neri che mette sempre il bagua, quindi le nuove caselle con determinate qualità con il nord sempre posizionato sulla porta d'ingresso. Noi dobbiamo sempre valutare qual è la posizione geografica effettiva di una stanza. Perché ragione? Perché di fatto gli stessi principi del feng shui funzionano perché noi siamo influenzati dall'attività solare, quindi il nostro ritmo circadiano come risponde ai cambiamenti della luce solare nel tempo, quindi come il nostro metabolismo e in generale tutta la nostra attivazione e attività ormonale va a variare a seconda del stagione, a seconda dell'esposizione e a seconda proprio del ritmo quotidiano. Sappiamo infatti che la luce del mattino, quindi l'est, l'informazione energetica che ci proviene dall'est tende ad attivarci molto al contrario di una luce al tramonto che ci andrà a disattivare in un certo senso, quindi andrà a diminuire le nostre attività fisiologiche a favore della produzione della melatonina e serotonina che ci permetteranno di dormire, di avere un sonno adeguato e ristoratore. Quindi quando noi abbiamo definito qual è la direzione della nostra stanza avremo un range di possibilità. Noi mettiamo ovviamente la planimetria, valutiamo le direzioni attraverso l'uso di una bussola, se controllate il mio video dedicato alla creazione del posizionamento corretto del bagua che trovate in descrizione è spiegato nel dettaglio e lì potremo iniziare a fare le nostre considerazioni sulla stanza che sono il terzo punto. Infatti definita qual è la posizione della stanza rispetto al corpo della casa e soprattutto anche definito da che direzione ci giunge il sole perché ad esempio noi potremmo avere una stanza posizionata nel settore sud-ovest ma con l'esposizione completamente a sud, quindi con tutta la finestratura o porte finestre esposte a sud. In questo caso avremo una stanza in cui la posizione relativa è correttamente sud-ovest ma l'influenza solare è prevalentemente sud, quindi bisogna anche fare proprio una considerazione per capire che tipo di energia stiamo sentendo, che tipo di informazione energetica riceviamo all'interno di quella stanza in caso bisognasse fare dei bilanciamenti contro degli eccessi o dei difetti. Comunque capita qual è la nostra direzione torniamo al nostro amato Wu Jing, quindi torniamo a considerare il fatto che è possibile definire le direzioni spaziali, quindi anche la posizione relativa di una stanza rispetto alla planimetria seguendo il ciclo delle cinque fasi dell'energia. Avremo quindi a nord il settore acqua, a nord-est e nel centro e a sud-ovest avremo il settore delle terre con un nord-est terra Yang e un sud-ovest terra Yin, poi a est e a sud-est l'ambito legno con il legno Yang a est e il legno Yin a sud-est, l'ambito sud che è il fuoco e dopo infine i settori del metallo con un ovest metallo Yin e un nord-ovest metallo Yang. Definite queste cose cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare la camera da letto, che tipo di funzione ha? La camera da letto ci deve fare riposare, ci deve dare una sensazione di protezione e stabilità, quindi la funzione della camera da letto è massimamente affine ad un'informazione di tipo terra, punto stabile, tranquilla e sicura. La terra Yin in particolar modo ci racconta, ci porta un'informazione che ci ricorda anche il concetto di madre, quindi di figura genitoriale che ci tutela, che ci protegge e proprio per questo viene considerato un ottimo settore per le camere da letto proprio il settore sud-ovest. Il settore nord-est invece, essendo il cosiddetto portale degli spiriti, quindi quel momento in cui l'informazione energetica cambia dallo Yin, dallo Yin estremo del nord al primo Yang dell'est, quel tipo di energia a volte viene considerata un po' instabile per quanto riguarda le camere da letto, ma non è detto che anzi ci sono tantissime camere da letto poste a nord-est che con le dovute informazioni, cioè che con le dovuti interventi riescono ad essere delle camere molto sane e riposanti oppure anche delle camere adatte a persone con un fortissimo legame con tutto l'ambito metafisico e più spirituale, soprattutto se si va a posizionare anche la direzione della testiera del letto verso nord-est che quindi aumenterà ancora di più questa informazione. Quindi quando noi abbiamo definito in che settore si trova la nostra stanza noi dobbiamo valutare rispetto alla funzione terra che è quella propria della camera da letto come si relaziona questa posizione? Noi avremo tre informazioni spaziali energetiche molto affini alla funzione della camera da letto ovvero la funzione terra come quella della camera da letto, la funzione fuoco che nutre la funzione, l'ambito fuoco che nutre una funzione terra o anche l'ambito metallo che è l'output quindi il tipo di informazione energetica in cui la terra spontaneamente si manifesta. Quando invece abbiamo delle informazioni in scontro con quella della funzione che in questo caso saranno quelle legate all'acqua che è in scontro con la terra perché la terra controlla l'acqua o il legno che è nuovamente in scontro perché il legno controlla la terra dovremo invece cercare una mediazione che cos'è una mediazione? Una mediazione significa inserire un tipo di informazione energetica che crei un passaggio tra due energie in scontro infatti se io ho un'energia di tipo legno e devo cercarla di armonizzare con un'energia di tipo terra cosa dovrò fare? dovrò inserire una funzione intermedia un'informazione intermedia di tipo fuoco che andrà proprio a creare questa mediazione di passaggio tra il legno e la terra. Quindi cosa come possiamo intervenire all'interno delle nostre stanze? Innanzitutto come ricordo sempre ci sono due cose fondamentali ovvero che la testiera del letto sia sempre più possibile piena sia a livello di testiera sia a livello di parete la parete dove si poggia il letto dovrà sempre essere quella la parete un po' più presente quella che dia più un senso quasi di grotta comunque di accoglienza di abbraccio rispetto al letto quindi evitiamo sempre specchi sopra il letto testiere vuote testiere a griglie di metallo o a sbarre di metallo per favore non sono letti adeguati al riposo o evitiamo di avere oggetti che siano proprio posizionati al di sopra della nostra testa che potrebbero darci un senso di spada di damocle quasi pronta a caderci addosso ed evitiamo anche le finestre quindi mai mettere un letto a ridosso di una finestra quindi appoggiato sotto una finestra questo si può fare esclusivamente per gli spazi molto piccoli ovvero quelle stanze in cui non è possibile posizionare un letto diversamente e lì ovviamente è importantissimo avere l'adeguata protezione per la fase notturna delle nostre finestre quindi mai una finestra aperta la scandinava con il letto appoggiato contro no non va proprio bene per il nostro riposo ci sentiremo sempre troppo esposti perché il nostro animale interiore avrà sempre la sensazione che qualcuno potrebbe arrivare da dietro per attaccarlo proprio nel momento in cui siamo meno difesi perché siamo incoscienti e siamo nella fase del sonno quindi questo era il primo concetto il secondo concetto è quello che tendenzialmente come la casa ogni stanza potrebbe avere un suo piccolo bagua in un certo senso quindi una disposizione interna che rispecchi quella dell'asse principale tartaruga fenice e dell'asse secondario tigre drago quindi cosa succede all'interno della stanza quando noi siamo distesi sul letto dovremmo avere sempre una parte che si trova alla nostra destra che rappresenta di fatto la tigre di questa disposizione che dovrà essere un po più leggera un po più in movimento anche un po più creativa un po come il nostro emisfero cerebrale destro e dopo una parte sinistra che dovrebbe essere quella che presenta i mobili più pieni i mobili più importanti come ad esempio l'armadio o comunque una struttura molto regolare leggermente più alta a livello di arredamento rispetto a quelle presente sulla nostra destra tutto questo andiamo quindi a vedere quali sono i colori possibili per le varie direzioni in cui una stanza si trovi se la nostra camera da letto si trova a nord dobbiamo ricordare che il nord a differenza di quanto si legge a volte è un settore molto delicato perché è già molto yin e se parliamo di una fase yin della nostra giornata è sempre meglio non esagerare perché si potrebbe proprio entrare in una sorta di turbini o inconscio che potrebbe crearci dei disagi sul lungo periodo i colori consigliati quindi per una stanza a nord possono essere sia quelli legati all'informazione di tipo qua però evitando gli azzurri troppo troppo chiari gli azzurri che diano proprio un senso di instabilità sarebbe sempre preferibile in questo caso utilizzare un'informazione di mediazione quindi magari inserire di più delle informazioni come il grigio o comunque colori di tipo metallo evitando però il bianco puro che soprattutto in una camera da letto è un po troppo attivante e in quel caso quindi avremo una mediazione tra un'informazione acqua della direzione e l'informazione terra della funzione della stanza quindi via libera insomma ai grigi e anche a forme molto morbide perché ad esempio sul nord potremo proprio utilizzare anche letti con degli andamenti un po' irregolari curvilinei che possono ricordare proprio delle forme molto organiche e acquatiche all'interno della nostra stanza ripeto invece attenzione agli azzurri perché spesso cioè e non parliamo dell'azzurro cielo quello è un altro tipo di informazione energetica evitiamoli proprio perché potrebbero creare un'iperattivazione del nostro inconscio quindi non farci dormire abbastanza bene cioè far lavorare più il cervello invece che riposare con tutto il recupero fisiologico e biologico del corpo se andiamo invece nel settore legno quindi sia all'est che al sud est dobbiamo nuovamente cercare la mediazione e questa volta la cercheremo col fuoco i colori fuoco come sappiamo sono tutti colori quelli molto vivi facciamo un'attenzione nella camera da letto evitiamo di usare i colori fuoco young quindi i gialli accesi gli arancioni accesi i rossi segnale cerchiamo di utilizzare i toni più in come ad esempio il rosso scuro i gialli e gli arancioni un po' meno intensi e mescoliamoli in caso anche con dei colori proprio legati all'informazione della direzione quindi dei colori legno come potrebbero essere i verdi in questo caso può andare bene anche delle composizioni che vanno a mediare proprio con l'informazione legno e l'informazione fuoco per poter giungere all'informazione a nutrire insomma la funzione terra della stanza ad esempio se vi piace lo scozzese la direzione sud est è una direzione molto consigliata per utilizzare quel tipo di stile dove vediamo proprio i verdi un po' più intensi legati a dei toni come quelli dei rossi pieni dei porpora anche volendo arrivati a sud invece abbiamo un altro tipo di problema il sud è il settore più young e più attivo della casa quindi è importantissimo cercare di creare una stanza estremamente yin che ci permetta di riposare meglio in questo caso per il sud ad esempio potremmo evitare di inserire nuovamente un'informazione di tipo fuoco ma cercare piuttosto di inserire informazioni di tipo terra che saranno perfettamente armoniche con la direzione perché la direzione le nutre e ci porterà questa disattivazione necessaria per un settore così energeticamente carico perché a sud cosa ci arriva? ci arriva l'informazione energetica del sole a mezzogiorno e del sole allo zenith quindi quella più carica di tutta la giornata questo tipo quindi di esposizione consiglia molto i colori di tipo terra quindi tutto regge dei marroni, le ocre, i colori anche dell'incarnato perché ricordo sempre che la terra viene anche rappresentata proprio dai rosa tutti quei colori naturali che ricordano la pelle e quindi in quel modo sarà possibile creare un ambiente che abbia la corretta mediazione tra una fase molto... tra una esposizione molto young e le funzioni terra e yin necessaria per la camera da letto andando invece verso l'informazione di scarico quindi la direzione metallo nella direzione metallo nuovamente possiamo inserire sia informazioni di tipo terra che tutte le informazioni di tipo metallo se vogliamo creare una buona mediazione ad esempio soprattutto nel metallo yin, nell'ovest possiamo utilizzare anche i colori rosa cipria quindi tutte quelle tonalità che ci ricordano un po' la cipria ma che ci ricordano anche l'eleganza, l'armonia in un certo senso di ricercatezza in questa direzione ad esempio potremmo anche inserire dei toni leggermente brillanti proprio che ci ricordano il metallo o anche degli accessori che siano in metallo puro come ad esempio in l'ottone, l'oro, l'argento evitiamo però troppo bianco e troppo argento anche se sarebbe indicato per la direzione perché il bianco e l'argento tendono a essere dei colori molto determinati non so se è il termine giusto ma che comunque sono più consigliati per delle zone di lavoro e di concentrazione piuttosto che per le zone di riposo in questa direzione possiamo anche inserire senza alcun problema quelle che sono le testiere rotonde che sono nuovamente estremamente indicate evitiamo comunque come in ogni stanza le superfici in ogni stanza da letto le superfici riflettenti le superfici riflettenti in generale sono preferibili esclusivamente nei settori young e l'importante è che poi il riflesso sia chiaro e vivido e non qualcosa che dia un senso di acqua sporca o di distorsione perché non ci trasmetterebbe la percezione esatta ci darebbe un po' un'informazione di qualcosa che è nascosto sott'acqua che è un po' deformato che non è corretto quindi potrebbe creare il cosiddetto SIT-C quindi un C malato che non va assolutamente bene soprattutto nel da letto dove dobbiamo avere un ambiente estremamente armonico e che ci dia un senso di floridità di abbondanza anche l'ultima direzione da considerare è quella terra per le direzioni terra ovviamente i colori più consigliati sono quelli terra se la stanza però tende a essere già troppo yin quindi magari molto piccola con poca esposizione luminosa cerchiamo di alzare un po' l'energia utilizzando magari dei colori fuoco che vanno a integrare quindi che vanno a riempire un po' a livello energetico questa direzione al contrario se invece le stanze sono molto ampie molto luminose cerchiamo magari di scaricare questa informazione un po' troppo young utilizzando dei toni di marrone molto scuri magari l'ebano ad esempio la bellezza del tecco dell'ebano come legni proprio all'interno da utilizzare all'interno delle stanze in generale per concludere quindi valutiamo sempre bene qual è l'esposizione qual è la direzione qual è la conformazione generale della stanza e cerchiamo sempre di non utilizzare colori attivanti ma preferire sempre toni un po' più desaturati un po' più scuri un po' più yin perché nella camera da letto è fondamentale che noi ci riposiamo una considerazione diversa invece va fatta per le camerette dei bambini le camerette dei bambini hanno necessità completamente diverse e la cosa più importante da considerare è creare sempre una stanza che segua la crescita in un certo senso dei nostri figli nel link c'è un video proprio mio fatto in collaborazione con l'accademia Hammers APS e il canale Ogni Momento nel quale spiego nel dettaglio cosa fare per le camerette dei bambini quindi quando dobbiamo sistemare la nostra camera ricordiamoci di prendere in considerazione sempre tutte queste cose e soprattutto evitiamo superfici riflettenti evitiamo i metalli perché i metalli tra l'altro aumentano anche la sensazione di rumore perché riflettono l'inquinamento acustico invece di assorbirlo come invece come fanno invece i tessili e i legni preferiamo soprattutto per la camera da letto esclusivamente tessuti e materiali naturali quindi niente plastiche niente fibre sintetiche sia per una questione di di pulizia vera e propria perché le fibre sintetiche tendono a aumentare l'accumulo di polvere in quanto creano campi elettrostatici ovviamente li crea anche la lana però solo se stimolata se insomma se insieme ad altri tipi di materiali e cerchiamo comunque sempre di scegliere mobili morbidi senza spigoli vivi senza eccessivi forme troppo spigolose appunto perché nella stanza dobbiamo sentirci accolti dobbiamo sentirci come quando eravamo piccoli all'interno delle nostre culle perché dormire è proprio quello e se il mondo odierno ha così tanto quello occidentale urbanizzato ha così tante problematiche legate al sonno è proprio dovuto al fatto che ci stiamo dimenticando come rispettare le nostre necessità e i nostri ritmi naturali ci vediamo a giugno per parlare del cucina quindi l'altra stanza fondamentale di un'abitazione grazie per l'ascolto di un'abitazione 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 di un'abitazione